Ciao a tutti, siamo in provincia di Genova, sui piani di Praglia a 900 metri sul livello del mare, in uno scenario favoloso. Siamo qui per farvi vedere il funzionamento di un motore Stirling, ovvero un motore che è stato inventato nel 1816, abbinato a una parabola a un concentratore solare. Sono le 8.20 del mattino e la temperatura esterna all'ombra è di meno 2 gradi sotto zero. Come possiamo vedere siamo nella stagione meno indicata per sfruttare il sole. Questa parabola ha un diametro di 47 centimetri, quindi in questo momento stiamo sfruttando una piccolissima porzione del potenziale solare a nostra disposizione. Il principio di funzionamento dell'apparecchio è questo. I raggi del sole vengono concentrati sul bulbo di vetro. Si genera così aria calda che fa muovere un pistone collegato tramite un sistema biella-manovella ad un volano. Come avete visto stiamo creando del motor rotativo sfruttando solamente il sole. Ovviamente questo motor rotativo si può abbinare anche a una dinamo e quindi fare elettricità, ma questo lo vedremo la prossima volta. Mi stavo scordando! Ciao Giacomo!